Salute Lissandro De Zerbi Salute Come state? Tutto va bene? Benissimo, vostra compagnia Siamo di stade ma non è mica per tutti C'è una impressione che può scombattere Scombattiamo senza riuscire perché chi ci vuole un giardino Le strutture che non nasce di settembre Dunque siamo montati fuoco Allora qui ne parleremo Siete qui in corti Oggi è un'altra casca vecchia Abbiamo ingocciato Perché ieri deve essere in traccia Di vedere per un'installazione Di un'antenna O diceremo Una struttura Assugiata A quella di Bastia Noi abbiamo fatto il nostro gioiaio Dopo il 2016 in Bastia Non dal terreno E siamo stati sollicitati Dopo un pezzo Da persone in piedi Soprattutto e in corti Per moltiplicare Diceremo la nostra struttura di Bastia Nasce e cresce E ci rispondiamo con piacere E per questo cerchiamo di compone Sguadre di formazione Cerchiamo lunghi livelli Assessati Piagenti Per chi ha gente Ci unga Con piagere E che la sentissi in casa Posto che cerchiamo A fare morettamente Una casa di lingua Una casa di due uomini E ciò che lo sentissi come di sé Allora Avete capito che Non abbiamo mica detto Né quale posizione Né di chi Assugio si tratta Perché Chiamiamo da organizzare Sicuramente Un distinione Un gioco Che I spettatori Devehanno riconosce Quale sono Assugio Allora Se voi Volevo Parla Appena Presentabile Vi riconosce Ma Presentabile In maniera Più Completa E Pu Presentare Vostra Assugio Assugio Che posizioni Presidente No Presidente Babu Babu Qual è Su Babu Giorgio De Zerbi Noi Infatti Abbiamo Creato Assugio Praticalingua In Bastia In 2014 Ben che N'abbiamo Aperto In 2016 Perché Abbiamo Viato Due Anni Per Riflett Il nostro Progetto Prevedere Il sviluppo E Vogliamo Vare Vogliamo Incarnare Appena Una Generazione Nuova Portughe Siamo Più Giorni Di Dienti Che Si Impegnano Nella Diffusione Dio Corso Al Di Là Di Nostro Impegno Professionale Perché Siamo Quasi Tutti Professori Di Corso Appunto Potete Dì A vostra Qualità E Io Sono Insigniente Di Professionale La Diffusione Parascolare Di Corso Spesso Pugliamo C'è una Loppia Necessità Necessità Dire Dere Che Sia C'abbia Operato Appena Di Diffusione Di Corso In L'annate Che Dier Annate Diceremo Contramuola Per Ciò Concerna Corso Che Sostate Generazione Che Bocconisci Deve Spesso Benevolente E Pugliamo Franca Obasso Con Cambiamento Politico Con Scambiamento Di Sguardo Di Asso Corsa L'antra L'ingua Pensamo Che O Dier Era O Tempo Che Quelli Che Si Impegnano In Diffusione Di O Corso Possano Tentare Usa Bane Se L'Ivegiano In Intesa Un Travaglio Di Qualità Ciò Che Non Cerchiamo A F Ma Vogliamo Mantendere Un Alea Con Se Generazioni Che Hanno Dato Gorsi Benevolenti Durante L'annate Perché S. Babbo E Presidente Così A Misura Che Proprietate Diceremo La Filosofia Di Si Mi Si Pare Che Dice A Due Dimension Una Da Sigo Radio Sta Appunto O Stentare Bane Diceremo O Una Barte O Stentare Bane E A Retribuzione Ma Questa Mi Pare Che L'avessi In Influenza Nontra O Statuto Stesso Di A Lingua O Statuto Simbolico A Manera Che Che A Lingua Campa In Menta A Gente Se O Personale Che Faccia Lingua Ritribuita Ci Potete Spiegare Appena Perché C'è Un'ambigualenza Agustino Che Ho Un'ambiguità O Una Doppia Dimensione Che Ci Vuole Spiegare Beh Io Penso Che Se Generazione Qui Hanno Operato La Diffusione Di Corso Di Manera Proprio Militante Benevolente La Novata Di Non Forse Per I Sovioli Appiano Possibilità Di Campare Di Dessa Diffusione Qui Noi Siamo Signenti Di Corso Il Nostro Stentare Bene Di O Nostro Travaio A Scuola Noi Pensemo Che Ci Vuole Si Impegnare Di Noi Generazione Di Nativi Che Niamo Sempre Ma Di Giovani Non Sono Forse Professori Di Corso Ma Che Hanno Una Competenza In La So Erte E Che Hanno Una Competenza In Lingua Dunque De Noi Un Stentare Bene Esclusivo Di Nimo De Noi Ma Di Una Berta Di Nostro Stentabone E A Pertes Un Momento Che I Nostri Formatori In Paglilla In Literatura In Teatro In 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 Disegno In Pittura In Storia A Pertes Un Momento Che Se Niente Qui Hanno Un Talente Pedagogico Un Talento Naso Erte Un Talento Linguistico E Beh Fiamo Di Manera Che Lì Ne Bossa No Gampà E Può Sè L' Populazione E Di Uscientizzare O Vato Che O Corso Un Amica Giusto Normale Di Parlarlo E Normale Non Parlarlo E Una Competenza Che Conta Domani Noi Pensemo Che A Corsica Che Siamo Un Piccolo Paese In Tio Strato Non Amo I Mese Di Sviluppare Industrie Pudente Non Amo I Mese Comunicazionali Di L' Paese Forse Pensemo A A Nostra Lingua Ciò Che No Siamo I Ladini Che No Siamo E Que Che Interessa O Mondo Più Che Ciò Che Che C'è Forse A E Tendenza A Sobra Sprutare I Nostri Patrimoni Naturali A Mare A Montagna Forse Ci Scordiamo Dese Gio Che O Mondo Ci Domanda Dese E Si Domane Carchi Sia Ande Odurisimo Ande Corso Pensemo Di C'è Dessa Manera Di Sviluppare Un Tanto Di Nostra Economia Un Tanto Di Nostro Paese Grazie A Questa E Dunque Di Una Competenza Importante E Dunque C'è La Valorizzata Ciò Che 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 Di Possibilità E Di Di Prospettive Diciamo D'organizzazione Di Vostro Tavaglio Di Spagliere Di A Lingua Corsa Contenne Un Ebo Dunque Di Inflessione Possibile Una Che Quella Di Da Su Già A Lingua Aspressione A Primura Di Aspressione In Lingua Corsa Con Altre Attività Come Ci Potete Spiegare Come Le Una Come Le A Lingua In Pratica Come Come A Praticate Come A Pensate Come A Praticate Perché A Prima Vista Quando Si Sente Musi Dice Subito 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 Ma Come Come Fanno Sì Sgaziati A Scombatte Con Tante Cose Con A Bittura Con A Storia Con Tutte Le Discipline Che Poi D'amintato E A Lingua A Te Prima C'è Una Riflessione Di Geragio Che Consiste A Dicchi Per Una Lingua Non è Mai A Principio Che Un Modo Di Comunicazione La Lingua Corsa Non è 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 Cerca Amparare Ghidera O Teatro A Fotografia Ciò che L'arribare Non si Manda Amica Se Amparare In Francese O In 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 Corso Vuole Amparare Ghidera O Teatro A Fotografia Noi Volemo Vare Ci sia Possibilità Di Ampararla In Corso Creando Un Clima Creando Un Clima E Creando Un Immersione Dunque Quando Si Viene A Predica Lingua Amparare A Ghidera O Amparare A Fotografia Si Viene Amparare L'oggettivo Maestro Di Manigliare A Ghidera O A Fotografia In Fin D'annata O In Un Tempo Che Un Formatore Averrà Deciso E L'adherente Dunque C'è Due Competenze So So Pare Dunque Tocca Alla So Organizzatore A Mette A Creare L'immersione I Noi Cremo L'immersione Non è la nostra sala di formazione Ma di noi In un nostro spazio Assogiativo Due Che Quando l'uomo Ha finito la sua formazione Che è l'usurto Dà i muri Di la sua formazione Che è quantunque Una protezione Si può sbagliare l'uomo In una sala di formazione Faccia un esercizio Si intende Che il tuo si possa sbagliare Sappiamo anche Che Abbiamo assai Difficoltà In corso E in corsica A sbagliarci In lingua corsa Sappiamo anche A beura Di un sbaglio Di un freno Tremendo Di una lingua Dunque noi Cerchiamo A continuare A prolungare L'ambio Di formazione In un Spazio Che c'è Un nostro spazio Assogiativo Due c'è Una biblioteca E un caffè E un'altra Che continua Di un corso Ma di maniera Autonoma Non è più Professore O formatore Che gli dice Di così Di quella Fa così Fa quella Ma di quello Che sceglie Di utilizzare il corso Perché Che gli è condizionato Da un fatto Che la segnalità E persone In giro Soprattutto Parla Che il corso Dunque C'era L'affare Di competenza Che mi pare Importante E poi C'era L'affare Di sbrucare Perché Un pochino Di corsi Che so Diceremo In difficoltà Qua sopropria Pratica Di un corso Qui c'è Questione Di scomplessarli E per scomplessarli Sappiamo anche Che è più facile A Indiennare A Permettere A pratica Di una lingua Quando Il spirito La mente Di concentrata Niente A strafare Spesso Quando diciamo Che fanno I corsi L'inglese In corso E Forse L'attilo Che dà In termini Di pratica Di un corso I più buoni risultati Perché Chi A persona Che bene E chi Parla l'inglese Che c'è La bucchia Si Mue Concentrazione Niente L'inglese E L'ambio Essendo un corso Ad Parla Più Volentieri In tutti i casi Una più Peura Di un sbaglio Perché Gli viene Più naturale Di una maniera Di risuscita O A quasi naturale Che Un pochino Di corsi Anno Del capo Ma che Si vergogna Perché Pensano Di essere Non abbastanza Competenti Non abbastanza Abbradi Giustamente E qui Di una maniera Di sbloccare Di una maniera Di una maniera E poi E poi Dopo La vostra Attività Diciamo Milidente Tra Bergolette Ancoghi Oramai Con In particolare Quei Casi La lingua Vostra Intronizzazione Di una maniera Di un nostro dovere E da costare Tanti punti Di un programma Che c'è Di un posto Di un posto Secondo Quando Giovate davanti Elevi O studiante Si De Il diritto Di aspettare In ritorno Un Travaio Che Corrisponda A qualità Di casi All'oggettivi Che Bavia De Visato Qui In Immersione Non c'è Mica Che ha Compendenza Linguistica C'è Un'altra E infatti Di una maniera Di noi Di Vigliare Affari Di maniera Più Positiva Di Una settimana Non Te L'astra Uno Gli Bene Amparà L'inglese Ad Progresi Più In Inglese Una Settimana Più Forse In Corso Una Settimana And Parla Che In Inglese Una Settimana And Parla Che In Corso E Infatti C'è Sempre Un Modivo Di Valorizzazione Di Progresione Di La Persona E Poi Noi Pensiamo Che Spesso C'è Un'idea Della Popolazione Soprattutto Un Dei Corsovoni Passivi Che Quella Di Dissi Ad Amparare Il Corso Quando Diciamo Quando L'hanno Concentizzato La Lingua Che Diciamo Ad Amparare Il Corso E O I Non Sbagliare Più A Poi Rai Parlar For Chi Su I Non Bene Mai Bene Mai Perché Si Sbaglia Sempre O E Sono Sicuro Che Di Poi O Princi Poi Sbagliato Qualsiasi Lingua Invece Di Qui O Princi Poi Imparare O In Tutti I Gasi Praticare A Lingua Proprio In Un' At Che Avete Il Vocabulario I Verbi E Maniere Di Che Concernano L'imparare O La Pratica Di La Gitarra Non è Tanto Se Vole Diciamo Puede Parlar Da Traffare Il Vero A Principio Ma Ho Manco Di Sì E Per Contro Su Poco Che Sapete Lo Sapete Perché C'è Ripetizione Di Rituali D' Esercizi In Situazione Senza Che L'U Una Pedagogia Diceremo Mascherata Quasi E Dunque Ho Poco Che Sapete Diciamo Dite Ma Dite Dite E Una Orta Che Avete Risposto A Primo Oggettivo Linguistico Liato A Una Competenza Ed Più Facilità Forse A Accusare A Stri Domini Di Comunicazione Dunque A Lingua E Quanto Que Stranno Perché Siete Un Assog Che Vuole Praticare Lingua Ma Non Fate Mica Un Insignamento Proprio Di Lingua E Non Fate Mica Proprio Un Insignamento Di Disciplina Dunque Dice Que Faccio Apposta Ma Di Insignare Che Avete Creato A Perte Di Un Certo In Immersione Di Necessità Di Immersione Avete Creato Un Logo O Loghi Ostonde Momenti Che Bene Noi Strutturare In Lingua Corsa Sua Ambizione Di Strutturare In Lingua Corsa Un Amparere Che Di Noi Un Baratto Su Già Io E Po Io Cerchiamo Creati Un Bisogno Di Lingua Voglio Di Che Noi Per Esempio Qui Di Po Il Principio Parliamo Un Corso Forse Perché Abbiamo Sempre Parlando Di Noi Che Non C'è Nemica Di Parlarci In Francese Ma Se Non Vogliamo Parlare Francese Abbiamo Di Stesso Modo Noi Abbiamo Mica Difficultà Di Comunicazione Se Niente Che Bene Non De Noi Emo Repubblichi Emo Gente Veramente Principi Antoni Che Hanno I Sogno Di Scortigà E Oasi Funzionamento Meccanica Di Lingua Si Stanno Un Anno Due Anni Massimo In Un Corso Di Corso Che 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 Noi Con Nessimo Si Ma Dopo Ci Sono Quelli Che Parlano Benissimo Che Bene Non De Noi A Cercare Un Spazio Di Pratica Di Che In Gira Se Non Non Occasione Di Parla Corso E Che Sono Brahma Di Parla So Lingua E Non Noi Perché I Spazi In Do Lusi Pratica O Corso Odio So Scherzi E Infine Pubblico Maggiore Ritardo So I Passivi C' Le Che Le Le Manche Il Corso Ma Noi Cerchiamo Di Che Una Pratica Nuova Che Le Veneno Cercando Noi Si Vessi In Corso Perché L'abbiano Bisogno Di Corso Perché Infatti De Tutta So Progressione In L'erte Che L'imparano Non Hanno Mai Parlato Che Corso E Dunque Crea Un Bisogno Perché O Si No Poi Non Parare Chitare Francese Senza Bisogno Di Corso Focchi I Progressi Che L'hanno Vato L'hanno In Corso Dunque È Normale Dopo Creiamo Si Bisogno Qui Perché Sinon Non Si Mette Mai Omo A Parla Corso Tutto Ciò Che L'ho In Corso L'ho In Francese Non C'è Mica Ragione Che Cambia Modo Di Funzionamento Cambia Modo Di Funzionamento Che A Pertesi Do Momento Chi Sia Lingua Diventa Un Bisogno Di Comunicazione Qui Si Vede Si Vede Spontare Un'interrogazione Quale Su Per Voi Il Rapporto Tra L'immersione Come Praticare Come Disciplina E Poi Dopo Anormalizzazione Anuzione E Normalizzazione Che Voi Avete Ammintato Due o tre Vorte Dicendo Normale Parla In maniera Normale E Se è Normale Come Come L'intendite Questo Perché Hai L'impressione Che Spesso Quando Si Dice Normalizzazione Non Si Parla Mica Di Stesso Affare Che Poi Spesso Sente Normalizzazione Di Corso Per Cercate Di Fare Una Lingua Normalizzata Bolesia Standardizzata Ma Noi Infatti Ci Appariamo Che Noi Popolazione Pare Un esotismo Pare Strano Pare Quasi Impossibile Dice Ma Non Non Possibile Ma Devano Parla In Corso Spesso I Colleghi Che Non Avevano In Lire Viz Lingue Ci Dicono Che Parenti Derevi Giugliano A Dirli Guardate Di Matematica Sì Se In Più Vado In Corso Due E Due Facendo Quattro In Corso E Francese Perché E Abbiamo Verso L'abitudine Di Vede La Nostra Lingua Come Una L'Emo Vista Come Un Elemento Di Identità Chi Dì Un Elemento Di Discriminazione Per Certi Un Elemento Si Sente Assai Beure Ci So Che Una Beura Che La Smarrisca Ci So Che Una Beura Di Parlarla Ci So Che Una Beura Che Non Fussi Più Parlata Come Tanto Ci So Che Una Beura Che La Leggessi A Ante D'acanto Noi Nostra Manera Trattarla E Giustamente La Risposta Di Dereno Di Dimostrare Che La Lingua Ognuno Ha Concezione Di La Lingua E Coscientizzazione Di La Lingua Come L'uore Come L'Untende Ma Noi Viamo A Prova Che Finalmente Facendo L'esercicio D'andare Seguida L'inglese O A Bolivonia In Corso Saperanno A Capo Di Un'ora Di Formazione Che Infatti Ho Ho Di Abadiella Che L'ho Vusi Spiegato In 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 Alemano Un Corso Di Ferma Verso Abadiella La Fotografia Ho 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 Una Perspettiva Un Diogo D'ombre Che Vusi Spiegato In Francesco Un Corso Ovviamente C'è Che Conta Dice Ma N'idia Ma Estra La Perspettiva In Fotografia E A Principio Certo I So Che L'isoc Concertati Quando Oltre Sia Farsi Non Prestiti Sia Di Una Manera Di Riacquistare O Di Gerardo A Natura Del Corso Che Dice Una Lingua Piuttosto Stuttura Verbale E Beh Se Un Zoom Non Esiste Non 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 Può Mordere Una Forma Che Dice Vato Ghia A Fotografia Apparisca Come Più Abigina A L'oggetto Fotografiato Lontano Ma Non Non Così A Forma Se Avessi Riettuto Appena Lenzo Trovo Meio Penso Ma Di Una Manera Di Riacquistare La Lingua Perciò Che Lì Spesso L'intopo Dice Siamo A Bezzi Con Tutto Francese Che In Gira A Pensare Francese E A Traduzione Spontaneo In Corso E Caschiamo Spesso Sempre Non Parole Che Che Corso Non Sa Traduzione Perché Firmiamo Non Modelo Di Struttura Nominale Di Francese Che Si Dechia Di Nome Invece Che Noi Preferiamo Ben Su Verbio E Ci Manchessero Parole Di Anche Una Manera Di Progresi In Corso Diceremo Più Stietto Più Mi Bara In Tutti Casi Più Spudico Che Di A Tutti Batti Mette Un Nome Quando Francese Mette Un Noi Noi De Orti Vrengese Mette Un Nome Cioè Mette Un Barbio E L'immersione Abra Di Galantau De Renu Permette Giustamente Di Connoce Sintopi Se Beure E Di Buelle Contornare Così No Si Contornare Di Anomica Capisco Spiegate Benissimo Diceremo A Pedagogia Perché Si Tratta In Pedagogia E Contunque Quando Si Siente Bene All'idea Subito Di Domandarvi Avete Tutti Gli Struiti Che Ci Vuole Per Affrontare Diceremo Questa Missione Che Provisi Di Cercare Con I Vostri Soldi Noi Cerchiamo A Fare Come Tutti Buon Travaglio E Cerchiamo A Preparare Ben Inteso Le Nostre Se Ma Quelli Che Hanno Vado Un' D' Insignamento Usano Chi Puede Preparare Quanto L'avivare Un Vato Umano Stesso Facce Chi Scontrere Situazioni Giustamente Di Difficultà E De Orti Mi Mancano Le Arnesi Per Controllare Certe Situazioni Ma Di Un Travaglio Che Dinamica Collettiva De Orti Noi Formatori Non parliamo Di Noi Nostri Aderenti E D'una Settimana Ndall'altra Ci Miglioriamo Tutti Penso Non c'è Mica Una Volontà Assoluta Di Considerare Che A Linguac C'è Sempre Una Risposta Subito Subito Che Bene Di Berella No Siamo Sempre Secondo Me In Un Periodo Di Riacquisto Vole Diccio Che Lui Diccio Sicura E Mue Difficultà Cerchiamo Contornare E Non c'è Che L'esperienza Di Dereno Che Offre La Possibilità Di D'avere Un Sguardo Non Che So Difficultà O Di A Lingua Due Che A Lingua C'è Un D'amica O L'intero Di Pratica Quotidiana Che Facce Apparicere Questa E Dunque C'è Un Tempo Dopo Di Riet E Di La Soluzione Come Sconfinite E Questione Diciamo Di Lessigo Come Avete Dizionari Di Corso Come Come Si Passa Allora Noi E Dunque Un Nostro Assogio Ha L'ambizione D'avere Cinque Progetti Frastro Al di là Di Nostra Formazione Per Andare Verso La Società Andare Noi Verso La Società E Fa Bene La Società Di Noi C'è Un Cinque Progetti Che Consiste A Creare Le Sighi Noi E Mi Consagro Come Studiente All'IUT Due Che Ha Due Filiere Che Li Toca Scombatte Con Lessi Assai Tecniche Assai Agudi E Fiamo Traduzione Quasi Senza Resto Con Mostro Oriente Perché Ha Gruppi Di Livelli E Dunque Pensato Che Un Al Meglio Per Farli Dare Cuscienza Di La Lingua Perché Giocare So Get Lingua Corsa Perché Gli Bossa Non Aveva Una Pratica Ognuna Usa Livelli Di Corso Che Era Di Travajarante La Traduzione Di Termini Così Dunque Quando Veramente C'è Un Top Ci Servimo Di Di Cosa Iadi Quei Amico Fiziale Quei Forse Amico Tutta Fatta Giusta Ciserà Da Discuta E Da Migliorare Ma Per L'intoppi Non So Amico Così Frequenti Non Più Voglio Dicchi C'è Una Parola Ogni Tanto Che Merida D' Essere Scorticata E Ci Riflettimo Tutti Seme Dopo Il Corso A Quantunque Largamente Abbastanza Risorse Per Giungere A Di Abbastanza Vagile Tutto A Pertes Un Momento Di Un C 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 da l'accesso a la formulazione grammaticale della struttura allora avete parlato di cinque progetti? nemmo cinque perché nella nostra strategia di sviluppo abbiamo pensato prima diverte ed esiste, che era già una scommessa in giro attelli che era la lingua, la storia, il canto, la chitarra dopo abbiamo avuto diversificato i nostri attelli nella seconda annata siamo avuti 35 attelli differenti che poi eseguita la pratica lingua mi pare abbastanza completo in termini di opportunità di formazione e poi abbiamo cominciato quest'anno di sviluppare i nostri progetti verso la società per rispondere, per sortire dai nostri muri non crea mica non più spazi troppo curiosi in due lingue, campo, saivè ma che franca, aborta, russo seria, bolteria, ma un mondo francovano quasi esclusivo dunque i nostri progetti, il primo si chiama Gioventù l'hiamo concretizzato con un partenario finanziario che si chiama Vito Corsica in un'interprese e con un club di football di voriani alieni abbiamo pensato che ci uli sia impegnato i logodori nativi che forse 150 o 160 professori di corso non c'erano mica e siamo sempre a fortuna oggi, allora che noi parliamo abbiamo due generazioni di nativi che parlano l'indue spontaneo forse non tutti hanno un discorso strutturato e lungo ma che hanno largamente risorse diffusate la lingua corsa e per questo abbiamo formato gli allenatori, gli allenatori quelli che eduano i zidelli di voriani alieni a farlo in corso dunque di una maniera di contornare la non generalizzazione di una corsa scuola di educare un pubblico nuovo perché c'è 67.000 persone in corso che sono iscritte nei club sportivi e di un'occasione di mettere tutti i zidelli a Buregio quale se sia non è la sua origine di rendere la sua pratica spontanea o all'odio di fare gli esercizi di nudo dunque colla, vala, aderita, manca, d'arredo, davanti scartati, punta queste sono parole che arrivano spesso l'amparera si faceva e si entra in origini che hanno giocato i zidelli con oggettivi con un seguito che ne è muovato sono stati di nudo ricompensati finanziariamente hanno dato un piccolo qualcosa e quindi è il nostro primo progetto il secondo si chiama terrediente che è molto cercato di suggerire e mi ha cercato di suggerire quei nostri aderenti di costi di lingua percorsi immersivi di scoperta di Corsica per turisti dell'estrangerio ma di nuovo per noi percorsi dove si può rigenerare i luoghi di alloggio, di ristorazione di incontro in giro in giro che spesso esistono ma che non completiamo con percorsi di scoperta con gente che ci ha incontrato con attività da va e tutto questo è in corso perché c'è una grande parte della popolazione che possiede questa competenza linguistica che ha una ricchezza e che non sono mica ricensati e che pensano non sapere nulla spesso con i complessi di colonizzati che ne avevamo ah io parlo così questa è la vola la somma ma buono a quella di interessare mi interessa c'è una piazza perché gli italiani per esempio venivano in Corsica a 10enne perché gli è bello di partecipare a una spolentata a una veglia a una violinata in un paese quando noi diciamo spesso che io ho un paese di inguardo che c'è a fare no interessiamo il mondo di qualcosa di ricercato e se a gente può ricevere una piccola partecipazione perché sanno tutto quello perché praticano pensiamo che sia interessante può permettere di spartare meglio la stagione turistica può permettere a un po' di 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 beneficiare appena anche di ricordare di turismo e pensiamo che c'è un'opera sugiare adesso c'è da me a te che c'è un partenariato con Canopè perché tutti i nostri atteggi hanno l'occasione a produire a creare e tutta questa risorsa qui a Livornimo dopo giudicare gli annuelli della qualità e di un modo che questa risorsa qui può essere adubra da scuola dai professori forse per abbinare appena di più posto che creazione di aderenti non sono professionali anche se li sono quadrati da noi permette di abbinare appena il famoso scherzo che non sono così sicuro che esiste tra lingua di scuola e lingua di Ugarudio non è niente qui produce un testo che poi non viene un tavolo di scuola il cuore si chiama creazione di cerchiamo arrivare la competenza tecnica a persone che hanno progetti impresariali in lingua corsa qui l'illustrazione si riesce siamo quasi junti con una persona che porta il progetto delle piluzze parlanti in corso qualcosa di semplice ma qualcosa che ci manca e è una maniera di entrare il corso dei vogli dei case di quelli che parlano mica i violi non è mica una rivoluzione ma di un una piccola avanzata se la persona qui riesce il progetto è per noi gli vorniamo giusto vogliamo essere in un luogo dove siamo bene e mi manca il corso mi manca il desto e noi siamo formatori in tante attività puoi muovare il disegno puoi muovare la musica puoi registrare e gli vorniamo a gratis posto che siamo finanzati dal pubblico che fanno pubblico e l'ultimo si chiama comuno che abbiamo cercato di diffusare i nostri corsi ai corsi della diaspora in diretta con interazione vera non sia giusto un registramento che fosse veramente un interazione in diretta con loro da portare la possibilità di avere una lingua quasi paese quasi lingua non quotidiana ma in tutti i casi regolare e davvero una vera lea con i corsi del mondo ecco ecco un programma che è ambizioso ma mi pare assinato in tutti i casi c'è ramma di vedere chi esce e se bene di noi entri in particolare di talo dalle di cinque progetti forse anche l'organizzazione e la riunione di tutti questi progetti per ispirare diciamo a vita quotidiana di a vostra casa e a lì con piacere bene radio volse con i responsabili di giocare qui di settembre lanciare un conservatorio popolare in Bastia è un'accademia di l'erte creative gestite da un conservatorio da Fanuto Raginta e per l'accademia da Matteo Graziani che abbiamo cercato di lavorare da tematiche comuni in musica per conservatorio in arte per l'accademia e abbiamo una tematica per l'accademia mediterraneo o un concetto filosofico poco comporta e lo sfruttiamo in lideratura in civilizzazione in teatro in fotografia in disegno dava che all'ospedagolo di vendannata che avevamo tutti l'anno ci fosse veramente una coerenza e un travaglio collettivo che sbocca un travaglio concreto globale comune